Sulle tracce di Colombo siamo risaliti all'età della pietra. Scopri l'altra faccia di Colombo nei supermercati Cov e vinci 200 fantastici viaggi e 600 milioni in premi immediati. Il contorno occhi è molto delicato, per questo i laboratori Garnier hanno creato Synergy BioContour, trattamento per il contorno occhi, tutta l'efficacia dei principi attivi naturali concentrati in un gel molto fresco, ipoallergenico. Synergy BioContour, risultato visibile, le rucche si attenuano, le borse si riducono, le occhiaie diminuiscono. Synergy BioContour, l'alleanza della scienza e della natura per prolungare la giovinezza del viso, garantito dai laboratori Garnier Paris. Stasera c'è moda, che gran gelato, sarete tutti conquistati, stasera restiamo a casa mia, con giro e servi della cremeria. State assistendo alla nascita di Dav Doccia Crema. Con lui fare la doccia non sarà più la stessa cosa, perché Dav non setta la pelle. Dav, un quarto di crema idratante. Dav, non ce la farò mai, vediamo come te la cade. Con una colazione con il gusto dell'energia e le vitamine vincenti dei miei Frosties ce la farai. I miei Frosties? Fortissimi! Frosties, la parte vincente di una colazione nutriente. E' una tigre, con i Frosties che lo stai, regala la tigre che in te. Echè, 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 echè. Oggi c'è rinugut antiallergico, indicato per le allergie, e spray, e agisce solo localmente. Quando c'è rinugut antiallergico, l'allergia è combattuta con efficacia. Evitare l'uso prolungato. Le scelte operative del governo devono attuare nell'alternativa e non nell'alternanza la decodentazione della ripresione del preamolo. Un preamolo sempre di col miglioramento, sempre di col rinnovamento, sempre di col progetto civile e culturale, e non c'è progetto civile, sempre di se riscontro, sempre di se riscontro, sempre di se riscontro, sempre di se riscontro, anche, formalissimo! Ho vinto con Agip! Formulissima, vi fa vincere più di mille premi. Informatevi dai gestori Agip e fate il nostro gioco. La vita, i problemi di ogni giorno, e bisogna avere il tempo di badare alla salute, alla forma e piacere a se stessi e agli altri. Occorre fare delle scelte, ma quali sono quelle giuste? E da chi farsi consigliare? C'è bisogno di una guida sicura, di informazioni pratiche per vivere meglio e in armonia con gli altri. Viver sani e belli ti aiuta nelle decisioni più importanti per la tua salute e la tua bellezza. Questa settimana, ospedale, inchiesta sulle sperimentazioni, esaurimento nervoso, cause e rischi di medi. Bellezza, le nuove pettinature e i costumi per l'estate. Viver sani e belli, in edicola a 1400 lire. Poltrone in morbida pelle, aria condizionata, dentro è una suite, fuori è una tipa. Poltrone in morbida pelle, aria condizionata, dentro è una suite, fuori è una tipa. Poltrone in morbida pelle, aria condizionata, dentro è una suite, fuori è una uva. Suite, la dolce vita. Poltrone in morbida pelle, aria condizionata, dentro è una tipa. Duke Atkinsons, padrone del gioco. Piaggio ha creato Quartz, l'unico scooter 50 con raffreddamento ad acqua e freno a disco. Una potenza davvero sorprendente, anzi, praticamente insuperabile. Quartz, si vede quando è Piaggio. Fame? Ma fame, fame, fame. Ci vuole un hamburger. Un vero hamburger. E il gusto giusto per l'hamburger? Giusto. Tanto ghiaccio e Coca-Cola. Coca-Cola. Fresca Coca-Cola. Quando mangi. Gusto, gusto, gusto. Scegli il gusto. Sessazione unica. Gillette presenta Sensor. Il nuovo sistema. La nuova tecnologia che cambierà il tuo modo di raderti per sempre. Le due lame di Sensor sono montate su molle straordinariamente sensibili. E ciascuna sente in ogni momento le caratteristiche uniche del tuo riso. E ti si adatta automaticamente. Nessun altro rasoio, rade più a fondo. Il nuovo rivoluzionario Gillette Sensor. La rasatura migliore che un uomo possa ottenere. Axe, o di toilette o d'oron per l'uomo in quattro profumazioni. Axe, l'istinto di un uomo. Da oggi Vivident New Formula apre nuove frontiere al chewing gum senza zucchero. Le frontiere del gusto. Vivident New Formula, il chewing gum senza zucchero, ha conquistato il gusto. E l'igiene orale fa un nuovo passo avanti. Vivident New Formula, più avanti per chi guarda avanti. E per il piacere di un alito fresco, il gusto della New Formula è anche in Vivident Compresse. Ed ora la domenica sportiva. E a mezzanotte, zona Cesarini. Buona visione.